La base ha avanzato! Vai! Viva le donne! Nero mille! Venti con i baglioli! Vai! Pranzo! C'è scatto! Pranzo? Andrea 8 e 10! Vai! Vai! Scusiamo Giorgio! Giorgio mangia il latte! A quanto siamo Andrea? 1, 2, 0, 0! Vai! 1, 2, 0, 20, 0, 25, 0, 25, 0, 25, 0, 25, 0, 25, 0, 25, 0, 25, 0, 25, 0, 24, 0, 25, 0, 25, 0, 26, 0, 25, 0, 25, 0, 26, 0, 25, 0, 25, 0, 27, 0, 25, 0, jumping in Da为了 Manchester City、 siete尾здotti,老师! che hai già vedi e' una mille e' una mille e' una mille stai chiede la fatica e' una strontata qua e' una catarro